Sono Mattias Fonseca, il numero 11. Il mio ruolo è quello di attaccante e mi piace molto attaccare la profondità e aggredire i difensori e rubare le palle. Anni fa ho iniziato a giocare come centrocampista, poi però avevo il vizio del gole, mi piaceva fare gole e mi hanno spostato in attacco. Mattias è un attaccante, tendenzialmente è un attaccante che può svariare su tutto il fronte d'attacco, è un ragazzo che ha delle doti importanti per quanto riguarda l'attacco della profondità, è molto bravo nella scelta dei tempi, nell'attaccare lo spazio, quindi ha delle caratteristiche da giocatore moderno importanti. Gioco a calcio da quando ho cinque anni, ho iniziato in una squadra piccola del mio paese, di nome Ardisci e Spera. Ho trascorso sei anni in quella squadra, per poi passare al Como, a 11 anni, nel quale sono rimasto altri cinque anni e nell'estate 2016 sono arrivato all'Inter. Il lavoro svolto per l'acquisizione di Mattias è durato praticamente un anno, è stato un lavoro importante a livello di scouting, abbiamo svolto una ricerca approfondita quando Mattias giocava a Como. Nella stagione precedente di approdare all'Inter ho fatto una stagione molto buona, ho segnato molto ed ero alla punta centrale, con un trequartista dietro, ho fatto una buona annata e però sinceramente non mi sarei mai aspettato questo passaggio all'Inter. Quello che ha colpito particolarmente di Mattias è sicuramente l'aspetto conclusivo di ogni situazione di gioco, quindi la fase realizzativa, in più anche le qualità tecniche perché l'aspetto coordinativo di Mattias è una parte importante del suo bagaglio tecnico, ma credo che in maniera più esponente e più importante sia appunto la facilità con cui Mattias va alla conclusione e va a rete. In famiglia ho mio padre che ha giocato in grandi squadre e ha segnato gol importanti e questo è un punto di stimolo per me e un giorno sogno anch'io di segnare certi gol importanti come ha fatto lui. Do you know who you are? Credo che la libertà dell'oro è importante. L'oro di piccolo io sempre ho detto, tu sei Mattias, Fonseca, io sono Daniel Fonseca. è un'altra storia, è un'altra realtà. Siamo cresciuti diversamente. Papà ha fatto quello che ha fatto e tu dovrai ancora fare tanto. Ma io la cosa più importante che faccio, che ricalco è che lui deve migliorare ogni volta. Ogni volta che c'è un allenamento è un'opportunità per migliorare, per crescere, per diventare più professionista delle cose che lui sta facendo, della sua passione. Solo se devono divertire, ma devono farlo seriamente. Un momento proprio fresco, ultimo che ho abbastanza, diciamo, registrato come emozionante dentro di me è la tripletta, forse, credo, no, forse, è la prima tripletta. È stata una bella emozione. Il mio sogno è di alzare la Coppa del mondo con la nazionale perché, a parer mio, è il miglior trofeo che si possa vincere.